Vieni, vieni, ah tu corri, prendiamo la pallina, tu giochi, prendiamo la pallina. Avremmo dovuto fotografare anche il suo compagno con il quale è stata trovata, è in cura per l'otite. C'è il frisee, guarda. La stanno usando? Non c'è... Niente? Niente? Non c'è un'altra pallina, qui? Ah, c'è un'altra pallina, qui? Ma è nostra? No. No. E l'altra sta là tu. Che c'è? Non ti convince. Non ti convince. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ci c'è? Alla delle anche are...? Ah, che c'è? Che c'è? va proprio nell'obiettivo